segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora civati subito dopo quella che sembrava un'apertura di credito di conte al pd per un dialogo dopo il 25 di settembre è arrivata la frenata con i vertici nazionali del pd forgorati dall'agenda draghi non potremmo nemmeno sederci al tavolo il movimento 5 stelle è più progressista della sinistra tradizionale proprio perché non si è lasciata bindolare dalle sirene dell'agenda draghi non lo so allora intanto queste dichiarazioni di conti dimostrano che lui il governo lo voleva far cadere davvero e tutta quella manfrina del voto di fiducia la stensione uscita dall'aula del non volere del in realtà era una scelta deliberata com'è una scelta deliberata anche quella di aver fatto saltare lui l'alleanza con il centro sinistra per queste prossime elezioni e di aver portato il paese insieme alla collaborazione degli alleati di meloni che erano al governo a votare in quest'estate quindi questo è il primo dato politico questi toni non sono accettabili se confrontati a quella finta responsabilità che conte cercare di dimostrare in quelle settimane di luglio dopodiché guardi io lezioni da una persona che ha fatto il governo con salvini con grande scioltezza poi è rimasto a fare il presidente del consiglio con quelli dall'altra parte poi ha sostenuto comunque perché poteva anche starsene fuori l'arrivo di draghi dopo di lui che ha interpretato quindi tutta la stagione politica del cominciamo non le prendo io sono stato a casa ho fatto altro non ho un agenda draghi io sempre un agenda berlinguer diciamo ok ovviamente va confrontata con le cose che succedono la responsabilità di genti gentiloni e un uomo di governo conte mi sembra mi faccia capire una cosa però ci vati davanti a una destra che è molto forte quindi lei non non crede che sarebbe stato necessario tentare fino all'ultimo comunque di costruire un fronte ampio repubblicano che andasse da calenda a conte e dalle sue parole mi farmi parli capire che tra la sinistra il movimento cinque stelle e il i ponti sono chiusi per sempre i ponti li ha fatti saltare conte con quella decisione assurda di mettere in discussione la stabilità di una maggioranza complicata in cui nessuno era contento evidentemente del tutto di starci perché si prendevano responsabilità più grandi forse degli onori che se ne che ne derivavano quindi questi ponti sono saltati per una decisione politica gigantesca e lo stesso ha fatto calenda io personalmente come forse saprà penso che questo sistema elettorale vada proporzionalizzato nel senso che ognuno dica quello in cui veramente crede e questo le coalizioni siano solo dei perimetri elettorali appunto che consentano la formazione di maggioranze se però io mi comporto come conte o come calenda capisce che è un po difficile poi dire no ma poi ci ritroviamo queste parole io pur essendo stato sempre molto critico non le ho mai usate allora ci dobbiamo fermare andare in pubblicitari partiamo proprio dalla sollecitazione usata da civanti agenda berlinguer contro agenda draghi che fine ha fatto e la sinistra dopo il break